Buongiorno, io sono Marco Bonapace, sono un docente di Biomedical Sciences, in particolare del nostro Master internazionale che precedentemente, lo sentirete nelle presentazioni, che precedentemente prendeva il nome di Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica, BARB, lo dico perché appunto verrà citato più di una volta. Diversamente appunto dal corso che abbiamo sentito prima, il nostro corso è interamente in inglese, cioè tutte le lezioni sono tenute in inglese e niente paura però, niente paura perché per familiarizzare gli studenti appunto all'uso della terminologia, noi ogni anno facciamo un precorso di Scientific English che verrà tenuto in genere nel mese di settembre, a cavallo diciamo così della quindicina di settembre. Sentirete anche dalle testimonianze dei ragazzi che hanno fatto, hanno seguito il nostro corso, che in realtà anche se magari le prime settimane uno si sente un po' spaesato, dopodiché è tutto veramente molto liscio. Ora il nostro corso prevede tre curricula indipendenti, uno in Oncology, uno in Neuroscience e un Double Degree che è fatto in collaborazione con l'University of Applied Sciences della Hochschule di Bonn ed è una collaborazione che è statutaria, nel senso che è un Double Degree pieno, nel senso che tutti coloro che decidessero di seguire il Double Degree il percorso, quindi per rispondere anche alla domanda magari che c'era, che era stata formulata precedentemente, è già definito, quindi non bisogna fare, certo bisogna fare poi il piano di studi, però è un piano di studi molto ben definito, quindi non è necessario fare, diciamo, elaborare piani complessi, si possono fare dei piani assolutamente personalizzati, da questo punto di vista tutto è possibile. I requisiti curriculari sono già stati ampiamente detti, abbiamo già detto che praticamente basta essere iscritti, come ha detto giustamente la collega prima, essere laureati in scienze biologiche o in biotecnologie e sia accesso pieno al percorso di studio. Ovviamente, come si è detto anche precedentemente, la preparazione dello studente verrà comunque confrontata con dei colleghi, con dei collegi docenti, per poter, diciamo, avere un colloquio di ammissione che potrà essere in italiano o l'inglese a seconda della scelta che il candidato vuole fare, pur sapendo che se sceglierà di farlo in italiano ci sarà un minimo di valutazione dell'inglese attraverso un paio di domande. Dopodiché, la laurea triennale, qua c'è purtroppo un errore, dovrà essere conseguita entro il febbraio del 2019, quindi chiedo scusa, ma purtroppo c'era un errore di un copy-paste sbagliato. Quindi, quali sarebbero gli obiettivi formativi generali di questo corso? La cosa più importante, conoscendo, diciamo così, molto di quello che già la nostra collega ha detto precedentemente, cioè il mondo contemporaneo è un mondo molto centrato sugli aspetti biomedici, dove la salute ricopre un ruolo fondamentale. Il nostro corso forma giustamente un biologo, ma che abbia delle conoscenze approfondite in campo biomedico. Questo è il taglio molto chiaro sul quale noi puntiamo. Questo perché possa effettivamente lo studente, in un secondo momento, inserirsi nel mondo scientifico e professionale, a livello nazionale e internazionale, e possa coprire ruoli di leadership, sia nel campo della ricerca di base, sia nel campo della ricerca applicata, ma non solo, ma anche in tutto quell'ampio aspetto, quell'ampio panorama che riguarda i laboratori di analisi, che sono molto importanti. E appunto questa interrelazione tra il mondo biologico e il mondo biomedico. Il mondo medico, scusate. Ancora, da un punto di vista poi di contenuti, l'obiettivo è un'approfondita conoscenza dei diversi processi biologici, che sono la base della fisiologia, delle alterazioni patologiche, ma ancora e sempre di più, come basta leggere i giornali e ce ne accorgiamo, sul problema della prevenzione e della correzione su base genetica e farmacologica. Ci sono avanzamenti in questo settore estremamente rilevanti negli ultimi anni e noi vogliamo dare molta rilevanza alla conoscenza di questi aspetti. Dopodiché, ovvio, le competenze metodologiche in tutte le tecnologie e biotecnologie che sono alla base appunto della diagnosi e della terapia in ambito medico, biomedico ovviamente, e poi ovviamente poter entrare nel mondo del lavoro con delle conoscenze robuste in questi settori. In particolare, poi, il Double Degree Program permette di avere questa esperienza di studio e di interazione all'estero in maniera, ripeto, statutaria, quindi il primo anno svolto in Italia, il secondo anno svolto direttamente in Germania. Ed infatti vediamo adesso gli obiettivi formativi di indirizzo. Nello specifico del curriculum di oncologi c'è ovviamente la parte più conoscitiva sugli aspetti delle patologie oncologiche e ovviamente anche sulla parte più farmacologica, quindi tutti gli aspetti che riguardano i processi di resistenza e gli effetti tossici dei farmaci antiocogenici che sono clinicamente in uso e quindi una approfondita conoscenza di questi aspetti importanti. Abbiamo anche un settore, dei corsi che si occupano degli aspetti epidemiologici che ricoprono un ruolo altrettanto rilevante. Per quanto riguarda invece il curriculum di neuroscience, invece altrettanto la centratura è sulle conoscenze nel settore specifico delle neuroscienze, quindi gli aspetti di patofisiologia, della neuroanatomia, ma ovviamente poi esplorare il tutto agli aspetti più terapeutici per quanto riguarda i disturbi psichiatrici, diciamo oggi purtroppo sempre in alcuni casi molto rilevanti nella nostra società. Importante è la parte del curriculum double degree, perché mentre questi due curriculum hanno un'impronta estremamente culturale, il double degree ha un'impronta anche molto applicativa. La Hochschule di Bonn è una università molto applicativa in cui l'ambito biomedico è approcciato in maniera estremamente applicativa e quindi in particolare gli studenti che dovessero scegliere il curriculum double degree e possono sceglierlo direttamente all'inizio del corso, cioè possono chiedere di partecipare al percorso di double degree piuttosto che agli altri due curriculum e automaticamente sono inseriti nel programma del double degree. e quindi certo devono seguire i corsi, devono superare un certo numero di esami prima di poter evidentemente accedere al secondo anno e quindi poter partire per il percorso specifico. Una cosa estremamente importante che noi riteniamo centrale è il percorso di tirocinio. è già stato ricordato che la durata minima deve essere di nove mesi e quello che noi sottolineiamo sempre è questo, cioè l'occasione del tirocinio per voi è l'occasione, diciamo così, del percorso di laurea, nel senso è il momento in cui voi imparate veramente a lavorare, imparate veramente a confrontarvi con gli aspetti di ricerca e il confronto con il mondo del lavoro. Quindi è estremamente importante che voi abbiate chiare le idee quando vi approcciate al problema, nel senso che affrontare la tesi più in una direzione di ricerca o più in una direzione professionalizzante è un aspetto importante. Per fare questo non sarete soli, perché abbiamo dei tutor interni che sono lì proprio per, siamo noi colleghi, diciamo i docenti del vostro corso, che vi seguiranno direttamente e vi cercheranno, vi supporteranno nella scelta, vi supporteranno nel confronto appunto tra questi due aspetti molto importanti nel percorso che voi scegliete, che voi vorrete scegliere. Il luogo in cui si può fare il percorso di tesi è o in un laboratorio dell'Insubria e l'istituzione dell'Insubria, che sia Bussarsizio, che sia Varese, che sia Como, è ampiamente attrezzata per ospitare chiunque di voi voglia fare una tesi all'interno della nostra istituzione, sia a livello tecnologico, sia a livello culturale, sia a livello di collaborazioni, come vedremo tra un attimo. Nonostante questo, voi potete scegliere in quale laboratorio andare, sia in Italia che all'estero, come è stato già ricordato ampiamente, sia perché noi abbiamo delle collaborazioni, alcune delle quali vi farò vedere tra un attimo, sia perché voi indipendentemente, attraverso percorsi autonomi vostri, avete intercettato dei luoghi fisici, nel senso degli istituti, dei laboratori in Italia all'estero che vi interessano di più e i nostri tutor interni sono lì pronti a darvi una mano per costruire il rapporto con queste istituzioni con cui voi vorreste venire in contatto. Quindi massima apertura e massima disponibilità. La cosa è, nel caso in cui, come è stato già detto ampiamente, il terrocino fosse fatto all'estero, in base al merito, in base alle cose, non mi ripeto perché la collega Marinelli è stata così brava nell'eleggare esattamente le cose che vanno fatte, e sono previste evidentemente dalle borse Erasmus. Nello specifico del curriculum double degree, diciamo, teoricamente, se uno si è recato in Germania, può fare la tesi in Germania in uno dei laboratori di Bonn. E, come sentiremo, la maggior parte dei vostri colleghi che hanno già fatto una prima tesi, l'hanno fatto bene o male nell'arco, diciamo così, della città o comunque delle aree limitrofe. Questo non implica che voi possiate andare in un punto qualunque dell'Unione Europea, Italia inclusa, e, ancora una volta, decidere, anche se siete nell'ambito del double degree, se fare o meno la tesi in quel luogo. Ecco, questa era soltanto un piccolo, diciamo così, ricognizione delle collaborazioni, di alcune delle collaborazioni, non ci entrano proprio tutte, che, nell'ambito del, diciamo, del corso, i nostri docenti hanno, sono collaborazioni che sono bene o male distribuite, come vedete, un po' in tutta Italia, ma non necessariamente solo in Italia, anche in Europa ce ne sono molte, purtroppo per ragioni veramente di spazio non siamo riusciti a inserirle tutte quante, e, come vedete, si va dalla Spagna, alla Francia, alla Svizzera, l'Ungheria, il Belgio, l'Inghilterra, la Svezia, la Grecia, e così via. Insomma, abbiamo numerose collaborazioni in giro, e, non ultime, anche nel mondo. Abbiamo delle forti collaborazioni attive, cioè queste non sono soltanto collaborazioni, giusto, nominali, sono collaborazioni attive, in, almeno, questi tre punti nel mondo, come vedete, negli Emirati Arabi Uniti, che però in realtà è la New York University, in Canada, alla University of Regina, e nello Stato di New York. Per quanto riguarda gli sbocchi occupazionali, ecco, tutto questo ragionamento è... Sì, sì, allora... Allora, questo magari possiamo riprenderlo ancora meglio attraverso delle domande, attraverso delle domande, e ci sono diverse figure. C'è il biologo competenze biomediche, scusate, facciamo soltanto velocemente così, il biologo responsabile del laboratorio di ricerca, che è l'aspetto principale che credo abbiate compreso, e poi abbiamo il responsabile del laboratorio di analisi, che sono figure altrettanto importanti. Possiamo approfondirle, appunto, attraverso delle domande, attraverso poi le testimonianze specifiche, e la cosa importante da sottolineare è che il tasso di occupazione, come è stato anche già ricordato precedentemente, è estremamente elevato, a un anno siamo oltre l'80%, e a tre anni siamo a livello del 100%, mettendo insieme le due lauree, la vecchia, diciamo così, in italiano, e l'attualmente nuova. Ecco, io avrei soltanto un brevissimo filmato da farvi vedere in concorso. Se avete qualche domanda, potete... Buongiorno, io volevo chiedere, appunto, come sbocchi professionali, se mi conferma che non ci sono sbocchi professionali solamente nella ricerca, ma comunque anche in altri campi lavorativi. Sì, come giustamente sta appunto dicendo, diciamo, l'ambito lavorativo è un ambito molto complesso oggi, e io ci tengo a dirlo in maniera precisa. Cioè, oggi la conoscenza è una cosa fondamentale. La conoscenza non più soltanto di base, ma la conoscenza di un certo livello. Quindi il nostro obiettivo è dare una preparazione sufficiente per poter affrontare non soltanto l'aspetto stretto della ricerca, ma per potersi collocare in altri ambiti, per esempio, in ambito strettamente biologico, come, diciamo, un biologo in senso stretto, oppure un responsabile di laboratorio di analisi, oppure informatore scientifico, oppure e così via, ma direttamente ad un certo livello. Perché è vero che le aziende tendono a, diciamo, reclutare le persone il più giovane possibili perché hanno bisogno di fare la loro formazione interna oltre a quella curriculare. Ma è anche vero che dipende dal livello in cui si entra in un'azienda. Cioè, se in un'azienda si entra in un livello base, diciamo, con delle informazioni, diciamo, non estremamente approfondite o comunque non sufficientemente approfondite, il livello che poi si può raggiungere è diverso. Quindi noi ci teniamo molto a questo, cioè che il livello di partenza sia un livello elevatissimo. Ed è per questo che lavoriamo molto sulla parte. Quindi sì, apertura massima. Cioè, ci sono tante opportunità. Noi, come abbiamo visto dal grafico, entro i tre anni abbiamo il 100%, come è stato ricordato anche precedentemente dalla collega, di occupazione da parte delle persone e non necessariamente nell'ambito della ricerca. Come vedremo, come sentiremo delle testimonianze, le persone non sono unicamente nell'ambito della ricerca stretta. Cioè, non c'è solo il dottorato, non c'è solo la carriera accademica, c'è molto di più, ma ad un certo livello in po', da un certo livello in su. Volevo sapere se, rispetto a quello detto prima sulla lingua inglese, che avendo un livello comunque l'inglese scolastico non ci siano problemi nell'affrontare una laurea di questo tipo. Allora, siamo ormai al, diciamo così, terzo primo anno, diciamo, e ci abbiamo ad aprire il quarto primo anno. Diciamo che fino adesso il problema più grosso sono stati i primissimi giorni, nel quale magari ogni tanto viene da parte dello studente la domanda di ripetere un attimino. dopodiché sia per quanto riguarda il percorso, scusate, sia per quanto riguarda la comprensione, sia per quanto riguarda all'esame, perché anche l'esame viene fatto in inglese, non abbiamo avuto grandi problemi. Ma poi, diciamoci la verità, noi siamo, tutti i colleghi, siamo lì, sempre pronti e disponibilissimi a, come dire, accompagnare. Abbiamo il percorso di Scientific English al mese di settembre, prima dell'inizio dei corsi. Durante l'anno ci sono diversi seminari in cui gli studenti possono continuare ad avere, diciamo, l'eco dell'inglese scientifico. E chi va all'estero, in particolare, chi è stato all'estero, come una ragazza, non so se avete sentito, ha detto, in un anno e mezzo in Germania io non ho imparato il tedesco, ma l'inglese lo parlo bene, finalmente. Quindi ci sono questi aspetti che sono assolutamente fondamentali. Quante persone mandate in Dapoligria ogni anno? Dipende, dipende dal numero di persone che si iscrivono. No, io penso che sia regolato dalla convenzione. Certo, c'è un numero massimo che sono sette, però poi dipende da quanti sono quelli che effettivamente hanno i requisiti durante il percorso di accedere. Di accedere, certo. Grazie. Volevo dire, ma una volta che sia in Germania, così, ci sono dei percorsi linguistici interni di supporto. Di supporto? Sì. O le lezioni, scusate, le lezioni sono interamente in inglese anche lì? Sì. Ok. Ok. Sì, ma lì è un mondo, lì è un'università veramente internazionale, nel senso che ci sono studenti da tutto il mondo, per cui, è per gioco forza che sia in inglese, perché è la lingua, diciamo, comune, scelta come lingua comune a livello scientifico. E che per chi avesse una certificazione a livello C1? Eh, ma durante, prima di arrivare a fare il double degree, cioè prima di spostarsi fisicamente in Germania, si è già fatto un anno in Italia, per cui, con noi, colleghi, docenti, ci sarà stato già un grande supporto, avrete già fatto un certo numero di esami in inglese, sia, ripeto, per comprensione, sia voi, per capacità di espressione, ci si aspetta, ed è stato così per gli studenti che sono andati, che al secondo anno, quando si arriva in Germania, il livello è già più che sufficiente per essere perfettamente integrati nella nuova struttura, nella nuova università. E per quanto riguarda l'avvitto alloggio? Allora, si diceva, forse questo mi è sfuggito, rispetto al discorso Erasmus, vi ho sfuggito di dire grazie per la domanda, c'è il, per quanto riguarda il double degree, ci sono le borse dedicate, nel senso che chi sceglie di fare il double degree e viene poi effettivamente durante il percorso viene, può andare, ha la borsa dedicata per 12 mesi. dopodiché l'università ha delle facilities per gli studenti, ma non tutti l'hanno scelta, alcuni hanno scelto di trovarsi diciamo così in condivisione, altre soluzioni personali, diciamo, c'è ampia possibilità, c'è anche ovviamente la possibilità di inserirsi nel campus specifico e scegliere di fare quello. Da questo punto di vista diciamo, gli aspetti tecnico-organizzativi secondo me non sono cose che vi possano preoccupare, nel senso che sono molto ben gestite, ecco, e quindi troverete il massimo supporto sia da qui che dalla Germania. Su questo non c'è problema. Grazie. Grazie.